Anche il territorio spezzino aderito all'iniziativa promossa da Union Camere assieme al Consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva. Intanto qual è il senso di questa iniziativa? Il senso dell'iniziativa è molto chiaro, mettere in contatto i produttori dell'olio e dell'olio extravergine di oliva con il grande pubblico. L'olio è un prodotto di grande eccellenza, di grande bontà ma un po' dimenticato, un po' soffocato. Un'iniziativa che è sostenuta da tutte le associazioni degli agricoltori del territorio ligure complessivamente. Che cosa potranno trovare i visitatori venendo appunto nelle aziende agricole produttrici di olio? Potranno trovare innanzitutto l'olio con una guida nel degustarne le caratteristiche e nell'apprezzarne la bontà. Poi troveranno le persone che quotidianamente si occupano di potare, di seguire la sviluppo della pianta degli oliva. E quindi troveranno questo ma troveranno anche luoghi nascosti e dimenticati. Troveranno abbazie, pievi, muretti, insediamenti preistorici. Troveranno tutto quello che gli olivicoltori che conoscono il territorio in cui lavorano sono capaci di proporre e di mostrarci. Sabato e domenica prossima questo appuntamento. Molte sono le imprese liguri e anche del territorio che aderiscono a questa iniziativa. Dove trovare gli indirizzi? Gli indirizzi potete trovarli nel web www.olivetiaperti.com E l'orario delle visite? L'orario delle visite saranno dalla tarda mattinata del sabato fino al pomeriggio di domenica. E quindi non vi resta che andare a vedere la nostra realtà agricola che è molto migliore di quanto si pensi.